Ciao a tutte e a tutti e benvenuti, anzi ben ritrovati a Oltre le parole, la vostra rubrica di Transcreation. Chiari, freschi e dolci testi, la chiarezza e l'immediatezza in pubblicità e quindi anche in Transcreation. Questa settimana voglio invitarvi a riflettere su due concetti molto importanti in pubblicità, la chiarezza e l'immediatezza del messaggio. Una pubblicità efficace arriva subito, senza giri di parole e senza sotterfugi, anche quando tace dei dettagli e lascia volontariamente la cune che starà al cervello del lettore col mare. A volte, per esempio, il testo chiarisce l'immagine, come in questo caso. Altre è invece l'immagine a chiarire il testo, come in questo caso, perché diciamocelo, è un po' come per le freddure, se ci devo pensare troppo su non mi fanno più ridere. Altre volte ancora si può scegliere volontariamente di stuzzicare la curiosità, ma in questo caso si deve conoscere molto bene il proprio pubblico per essere certi che coglierà il messaggio. Vi starete forse chiedendo perché dovrebbero interessarci questi aspetti, in fondo noi siamo solo transcriator. Io direi invece che ci interessano proprio per questo motivo. Per capire meglio dove voglio andare a parare vi porto un caso reale che mi è capitato poco tempo fa. E siccome vado in giro a fotografare pubblicità e a strappare pagine di giornale, oggi lo condividerò con voi. Loro sono Monoprix, marchio francese di una catena di supermercati di prossimità. Faccio una premessa, io adoro il loro tono di voce, fantasioso e ironico. Volete conoscerlo un po' meglio? Qui per esempio fanno dei giochi di parole genialissimi con questa campagna che unisce packaging e copy. Qui c'è velata ironia in questo avviso alla clientela e qui ironia pungente in questa campagna che annunciava la chiusura di alcuni reparti non essenziali durante la seconda fase della pandemia. Per chi non conosce il francese ve ne traduco al volo due, il primo e il secondo. Se i biberon non erano necessari, bisognava avvertirci di non fare bebè durante il primo lockdown. E il secondo. Chi ha potuto pensare che i deodoranti non fossero necessari, non deve prendere l'autobus molto spesso. Ma allora dove sta il problema? Vi faccio vedere un'altra pubblicità, questa qui. Il testo dice il tuo viso rischia di essere geloso. Leggiando la body copy capiamo che si parla di maschere depilatorie per le gambe. Dopo averla letta e averla fatta leggere a varie persone attorno a me, sono giunta alla conclusione che questa pubblicità può suscitare reazioni contrastanti. La prima, boh, non ci ho capito nulla e passo oltre. La seconda, state forse insinuare che a me si vedono i baffetti? E la terza, ma solo dopo averci riflettuto un minuto e aver letto tutta la body copy, la crema è talmente idratante e delicata sulla pelle che anche il mio viso vorrebbe provarla, se non fosse che depila, o comunque averne una simile. Visto che il tono di voce del brand è casual e ironico, a volte al confine con il sarcasmo, il loro intento potrebbe essere quello di stimolare la curiosità per spingere a leggere la body copy. O forse no, chissà. Quel che è certo è che anche chi ha colto il messaggio, forse più plausibile, della pubblicità l'ha fatto grazie alla body copy, ma non è detto che tutti approfondiscano. In caso di transcreation sarebbe quindi illecito o spicabile chiedere quale sia l'interpretazione giusta su cui puntare, per evitare occhi sgranati da parte di chi ci leggerà. Ricordiamoci che si tratta pur sempre di un supermercato, dal target per forza di cose molto ampio ed eterogeneo. E ora vi lascio con tre quesiti. Secondo voi l'originale è chiaro così com'è? Una resa più immediata ma nel rispetto del brand, per esempio, che so, così cremosi e idratanti che il tuo viso rischia di essere geloso. Sarebbe meglio o il messaggio perderebbe efficacia? E infine, si potrebbe rendere efficace senza aggiunte? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo con queste riflessioni o se ne avete altre. E noi ci ritroviamo tra due settimane. Ciao ciao!